Come sempre fatto mi metto a disposizione il gruppo, poi il mister fa le sue scelte, io mi sto allenando al massimo per migliorare il più possibile e per arrivare pronto a questo campionato. Che differenze hai trovato tra la preparazione dello scorso anno e quella di quest'anno? Intanto siete un po' meno? Sicuramente in organico siamo molto meno persone, quindi diciamo che si lavora meglio. Poi la differenza di lavoro con Zeman non è molto differente, con Zeman si lavorava di più, si faceva più forza, però anche con questo prof abbiamo lavorato molto bene, abbiamo faticato molto diciamo, quindi spero che arriveremo pronti perché comunque abbiamo fatto molta fatica a questo ritiro e ce lo meritiamo. C'è anche un bel affietamento tra di voi, abbiamo visto anche delle feste, periodi gogliardici nel corso del ritiro. Sì, fortunatamente si è creato un bellissimo gruppo fin dall'inizio, noi ognuno di noi ci sta mettendo qualcosa in più per creare qualcosa anche fuori dal campo, perché sappiamo che le squadre vincenti creano qualcosa di più delle altre anche fuori dal campo. Si sta creando un bel gruppo sia dentro che fuori, quindi spero che in campo si veda anche questo, e che nei momenti di difficoltà ci si dia una mano a vicenda. Comunque in organico diciamo che sono arrivati i giocatori più esperti come Memushai e Scognamilio, però io credo che quest'anno possiamo fare meglio dell'anno scorso. No, sì, sì, noi nel senso ci speriamo sempre, poi il campo darà le sue risposte, però io credo che con il ritorno di Memushai, con Scognamilio, comunque è una squadra che può far sicuramente bene. Io ci spero molto perché l'anno scorso non siamo stati molto felici di come è andato il campionato, quindi dobbiamo riscattarci a tutti i costi e anche per far venire più gente allo stadio per noi. Diciamo le chiacchiere all'inizio del campionato se le porta via il vento. Noi dobbiamo far parlare il campo e dobbiamo far credere in noi i nostri tifosi, quindi noi ce la metteremo tutta e speriamo che a fine campionato possiamo essere felici. Sicuramente l'anno scorso ci sono state delle ascee d'onda troppi alti e bassi, noi vogliamo mantenere un'ascea costante di risultati il più possibile e tenerci aggrappati al gruppo di su. Questo credo sia il nostro obiettivo perché comunque è inutile stare qui a parlare di vincere il campionato, di salvarci. Secondo me quello che deve fare il Pescara è restare in alto il più possibile per tutto il campionato. Non dobbiamo fare delle prestazioni convincenti e subito dopo poi fare delle brutte prestazioni. Io credo che ci vuole costanza perché comunque è la cosa che poi in Serie B fa la differenza.